Salve a tutti amici di Amazon, velocissimo unboxing e al volo due paroline così a caldo su questa lampada allora, precisiamo che se questa lampada funzionasse al 100% perfettamente, tutto a posto io comunque non la consiglierei perché comunque al prezzo qui viene venduta di, se non sbaglio, 149€ però al momento che l'ho presa è di per sé un prezzo che non sussiste per un prodotto di questo genere qua tralasciando il fatto, che potrebbe anche essere che non sia cinese anche se lo dubito però ce ne sono tante varianti cinesi che costano un quinto di quello che costa questa quindi anche se questa qua fosse perfetta non li spenderei quei soldi lì a meno che non fosse costruita magari in vetro o con qualche materiale particolare dove giustifica questo prezzo però ripeto, ve lo dico, non è in vetro, è plastica e adesso andiamo a vederla insieme allora, scatola leggermente danneggiata quindi probabilmente sarà qualcuno che l'ha presa e l'ha mandata indietro e adesso ve la faccio vedere ok, scatola non c'è più niente abbiamo sicuramente un manuale bello grosso ok abbiamo la nostra lampada che tanto per dirvi già qualcosa qua c'è non so perché c'è questo spazio qui e qua non so perché non ce n'è quindi boh non riesco a capire perché come è possibile che sia fatto in questo modo quindi già qua capite già che il prodotto è tutta plastica ok, tutta plastica ok ma ripeto, purtroppo anche se fosse stata perfetta ripeto, 150 euro sono un'esagerazione ok, adesso vado subito a collegarla che vi mostro un attimo come funziona ovviamente è una lampada che va per forza alimentata eccomi qua con la lampada appunto messa in messa in carica vi faccio già notare il fatto che ci sia giusto l'ora e che si vede veramente poco in presenza di luce vi faccio già vedere che qua sopra c'è appunto lo slot per ricaricare wireless magari uno smartphone tranquillamente ci sta un telefono abbastanza grande 6.8 pollici ci sta tranquillamente vi mostro il fatto che ricarica mettendo la mia custodia di cuffie Sony vedete che vediamo un attimo che si spenga ecco, lo faccio rivedere vedete che carica tranquillamente cosa si deve sapere a riguardo? allora qua ok, qua ok, ho detto qua si ecco, non lo sapevo qua si accende la lampada sicuramente i colori sono stupendi niente da dire veramente molto molto belli anche tutti i vari motivi vedete, guardate qua che carini ecco sicuramente la luce è stupenda e queste sono altre varietà penso di luce abbiamo per dormire non so bene cosa cambia ah, penso sia la luminosità no vabbè, non so bene cosa vanno a indicare questi due pulsanti comunque vi permettono di cambiare le luci sotto posso spegnerla? ok, tenendo premuto si spegne perfetto se andiamo sotto vediamo delle altre opzioni allora abbiamo qua bluetooth non so se si riesce ve lo faccio vedere qua abbiamo l'icona del bluetooth perché questa 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 cassa può essere può diventare uno speaker quindi tipo una cassa bluetooth quindi può riprodurre da qua la musica qua è la luminosità la luminosità semplicemente il fatto di vedere vedete la luminosità dell'orologio qua adesso si vede già meglio auto non so cosa significa ok qua abbiamo l'orologio quindi per andare a impostare l'allarme e altre cose principalmente l'allarme qua abbiamo un altro orologio quindi un'altra allarme ok quindi questi due pulsanti qua con l'orologio potete andare a impostare due sveglie e con questo penso vi permette di andare a insomma sarebbe il fatto di essere di notte penso e l'ultimo in fondo per disattivare attivare il wifi almeno credo vabbè vi ho fatto vedere bene o male come funziona questa questa lampada quindi avete tanti bei colori avete l'impostazione alba e notte che si andrà a impostare con il manuale e poi ovviamente la cassa avendo il bluetooth ripeto può essere tranquillamente uno speaker bluetooth quindi potete riprodurre la musica e un'altra cosa può essere collegata anche ad Alexa quindi potete accenderla spegnerla o magari teoricamente penso anche riprodurre qualcosa da lei non lo so questo però so che si può collegare da Alexa e c'è una sua applicazione che vi permette di andare a scegliere i colori e tutto quello che volete non vado inoltre non vado a immergermi ancora di più nella recensione tramite il video perché di per sé ripeto può essere bella quanto volete ma 150 euro non le spenderei mai nella vita per una lampada di questo genere interamente in plastica e che comunque non è nemmeno perfetta perché vedete che qua è tutto aperto qua è chiuso e dopo è plastica e ripeto non è perfetta e non è in vetro e sono 150 euro quindi sono tanti soldi per una lampada di questo genere quindi non mi non vado a non vado a essere molto esaustivo a livello di video scriverò qua sotto nella recensione tutto quello che può fare perché adesso provo un attimo a collegarla a vedere tutto e magari nella recensione vi scriverò tutto quanto adesso provo a attivare il bluetooth e vi faccio sentire come suona salve a tutti amici di amazon eccoci qua anche se non volevo farlo comunque lo faccio perché almeno vi faccio vedere come funziona una volta che voi avete tramite l'applicazione smart life aggiunto questo il dispositivo che sarebbe la lampada una volta che l'avete configurata con la vostra rete internet avrete appunto queste queste funzioni qua quindi potrete andare a impostare qua in prima pagina ci sono queste 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 scene qua che hanno anche oltre a un colore della lampada anche un suono sentite questa è la lampada che sta scoppiettando il fuoco ok questo è per dormire la pioggia ecco non va più non capisco perché non vada più ok si era buggata tanto per cambiare qua sotto potete impostare direttamente l'app senza andare a utilizzare fisicamente la lampada potete impostare le sveglie ok e poi qua ci sono altre cose come spenta aurora quindi tutte queste cose qua sono tutte dei colori che vengono impostate sulla lampada che adesso vedo io che sta cambiando e qua potete diminuire la luminosità o alzarla e modificare anche la velocità con cui cambia con cui cambia ok collegamento qua potete vedere potete impostare già l'ora anche da qui potete sincronizzare con l'ora di rete potete fare tutto quello che vi va quindi potete mettere anche la città in cui siete stato di ricarica anche qua potete ecco diciamo che se collegate la lampada l'applica internet è tutto molto più semplice la configurazione potete fare tutto dall'app tramite internet se invece non la collegate dovete fare tutto manualmente ma un po' più complicato perché adesso sto guardando il manuale ed è un po' complicato come andare a selezionare tutto ecco non capisco perché non riesco a collegarsi il bluetooth una volta avevo provato con un iphone di mia morose si era collegata col mio android non riesce a trovare il dispositivo spento e riacceso più e più volte il bluetooth non riesco a capire perché o magari è vincolato a solo un dispositivo e quindi magari il fatto che abbia collegato la prima volta l'iphone di mia morosa lui vede solo quello e gli altri non li fa più vedere non so neanche dove sia un reset quindi il bluetooth a me non funziona non riesco a trovare il dispositivo quindi non riesco a fare nulla confermo il fatto che si può collegare con Alexa perché appunto il fatto che sia qua posso decidere di accenderla e spegnerla e non mi pare ci sia altro da dire ok quindi tutto sommato la lampada ha dei bei colori è smart quindi funziona tranquillamente è smart mi dispiace che il bluetooth a me non funzioni momentaneamente però confermo che all'inizio mia morosa era riuscito a collegarlo e è riuscito anche a riprodurre della musica quindi magari ci sarà qualche limitazione a un dispositivo per volta non lo so però ripeto il massimo cui posso dare per questa lampada sono una trentina d'euro se no non vado a spendere più soldi per una lampada che deve stare su un comodino e che mi deve dirlo ora capite capite che con 150 euro compro decisamente altro questa lampada non vale 150 euro quindi anche se era perfetta non l'avrei comprata preciso il fatto che non è perfetta perché appunto esteticamente ha dei difetti esteticamente è fatta in plastica funzionalmente non capisco perché non vado al bluetooth quindi ha dei problemi che adesso non so cioè dei problemi costruttivi che sinceramente non importa perché tanto il prodotto anche se era ripeto immacolato non gli valeva 150 euro il fatto che presenta appunto dei difetti lo rende ancora ancora come si può dire lo reputo un acquisto che non consiglio ancora di più ok poi funzionalmente la luce è bella e forte tanto tanti bei colori questo sì però non capisco perché il bluetooth non va e niente quindi spero che questo video unboxing e queste due parole che abbiamo fatto insieme vi sono state d'aiuto comunque ripeto io non ve la consiglio poi siete liberi di fare le vostre scelte ci sono Thomas il vostro caro amico di Amazon vi lascio qui sotto una breve recensione scritta le vostre scelte